I'm the Trumps, the motherfucker Salve a tutti ragazzi, qua è MatPak E siamo qua con un video ringraziamento per i 200.000 iscritti Ehm, volevo dirvi che... Vabbè, intanto guardate la... La mostosità del mio disegno, diciamo Vabbè, non dateci l'occhio, l'ho fatto in 5 minuti Vabbè, volevo dirvi, volevo appunto dirvi che... Se volete, tra poco inizierò una serie della FTP Se volete appunto giocare con me, ci possiamo mettere d'accordo Ehm, si riduzione ma vaffanculo Se vi interessa appunto vi mettete d'accordo con me Troverei un server, perché tanto ce ne sono della Diedworth Ehm, che è server usato non da noi, però che c'è poca gente Oppure che non ce n'è proprio Anzi è meglio per noi Comunque, detto questo vi volevo dire anche che Se volete BG gratis di YouTube Perché, per chi non sa cosa è un BG è uno sfondo Riccamente del canale Ma vi faccio vedere Perché proprio è ignorante Tipo questo Carica YouTube, carica Tipo questo Guardate questo Vabbè Io ho detto questo Vi ringrazio ancora ma di cuore Ma di una bontà unica, diciamo Ehm, vi ringrazio Ehm Ehm, ci incontreremo per la serie Per chi ne ha voglia Ciao a tutti ragazzi